Nel corso di una complessa e articolata attività di indagini disposta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, tendente al contrasto di attività illecite finalizzate allo scavo clandestino, al saccheggio e alla distruzione di aree archeologiche presenti nel sottosuolo del centro storico della città, il personale del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha rinvenuto e sottoposto a sequestro ambienti sotterranei pertinenti ad un'antica struttura religiosa. L'illecita attività sarebbe stata posta in essere da un imprenditore napoletano il quale, secondo il quadro accusatorio, sfruttando l'utilizzo di locali terranei nella sua disponibilità collocati in centro città, avrebbe posto in opera una serie di scavi sotterranei clandestini allo scopo di individuare e trarre profitto da realtà archeologiche ubicate nella sottosuolo. Il sequestro ha permesso di interrompere le attività di scavo abusivo in una chiesa medievale databile all'undicesimo secolo, ubicata a circa otto metri di profondità dal livello stradale, di cui è attualmente visibile un'abside semicircolare affrescata, in discreto stato di conservazione, sulla quale è parzialmente identificabile l'iconografia del Cristo in trono, con al di sotto decorazioni a velarium e un'iscrizione dedicatoria in parte già decifrata. Dell'antica chiesa è emersa anche parte della pavimentazione realizzata in lastre di marmo bianco di spoglio. L'eccezionalità della scoperta restituisce al patrimonio pubblico i resti di un raro esempio di arte medievale dell'undicesimo secolo e si aggiunge alle non numerose testimonianze pittoriche del periodo medievale sul territorio nazionale.